Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Capito? Sì, stavo facendo un altro Tu non vorresti dire una roba? Ho scoperto che esiste... e non scrivete A però Me la sono presa Sì, no, sono contento perché sicuramente è già da un po' di anni che ogni tot parte un trend Partono dei trend più virali ma in maniera totalmente organica sui pezzi miei E questo mi fa pensare che sia perché potrebbero partire con me come con chiunque altro Ma magari è perché appunto evidentemente scrivo delle cose che sono relazionabili Difesa da spina, profitti di chi ti segui Bro, imparla l'italiano per favore, io non riesco a comunicare con un italiano di questo tipo Comunque non ho aumentato le pubblicità ragazzi, non apro mai la dashboard di Twitch Non ho aumentato nessuna pubblicità Se ci sono le pubblicità più alte perché a giugno Twitch scanna con le pubblicità sue Ma questo è un balconcino Lavati le mani, minchia, non è che ho schiacciato un cumulo di merda eh Che figo Eh sì Eh sì c'è il papa Ti ha fastidio o no? Cosa? L'aria No Ok Senti È bellissimo Questa è una volta molto... Molto... Sì Oh eeeh... Ah no vabbè no, non tirerò fuori questo argomento No tiralo Grazie Ricchio Sai che voglio fa... eh? Eh? Eh guarda come si chiama Eh sì l'ho visto Mi saluto Grazie Ricchi Dio, grazie Lorenzo Grazie mille Vabbè grazie Ricchione Si chiama così che cazzo te lo dì Il suo username lo ringrazio Stanno altri video? Eh eh Boh comunque è inquietante È molto inquietante zio sì È molto molto inquietante Che? Ti sei messo anche tu con le braccia così? Sì Mi sa che c'è stato un timing pazzesco allora Non lo so Non lo so No ma io... Io sono sincero Io gli ho detto... Cioè se io me facevo Perché Gio è stato pure calmo zio Io gli ho detto a Dennis io non so così Tu immagina no? Io come mi facevano fa un viaggio da Roma Andavo fino alla Gio No Rubino Se viaggio non puoi entrare Cioè io zì No però io in realtà Non voglio ovviamente giustificare nessuno Però ho parlato con delle persone interne Comunque in realtà Cioè eh Niente ma non vuole parlare Io ho parlato col punch Ho parlato con... Alta uguale da seduto Ah io o lei No lei Urca Poi? Young Miles Cantante? No DJ DJ Cosa vuol dire DJ? Saper? Eh? Per cosa sta DJ? Digital Music Express Ah e me non c'è 89 Sono il capobranco di mie pe... Umeriggio non sarà più così Eh? E' pezzi E' pezzi E' pezzi No no azio ma mi fanno veramente veramente pisciare sti meme Ok Ah poi la roba è inquietante che se ne vanno via tutti Beh Cioè assurdo Cioè proprio... Il meme è quello Andiamo avanti Oh non vale neanche fare così eh No no vabbè Immobile Per i 15 euro bro 3 euro e 99 ce la fate Cioè Cioè nel senso Eh sì 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 3 euro e 99 3 euro e 99 è quello per dire Se non mi potete promettere Esatto Andate anche sul mio No ok Questa cosa è molto importante Se dici di subarviare questo canale Quello di Martina non lo dovete toccare No anche il mio Anche il mio Assolutamente mai Vado a prendere dell'acqua Ma mi sento veramente bassa Aia cazzo di Dio Ma mi dà il fastidio Ho fatto una gag dolorosissima Aspetta Lorenzo Lo tolgo Lo tolgo No scherzo Non so Anche io Ma proprio con Maestro ho litigato Ancora i sbatti con lui Ma che dici? No te lo giuro Perché? Ho anche detto un po' di tempo fa Eh abbiamo litigato Poi in realtà sai quella cosa triste Che io e Miles abbiamo litigato Tipo un mesetto fa Perché mi ero incazzato Che non ero venuto al green box Ho litigato? Non so se non è una gag E abbiamo mezzo di congiunto Io sono un coglione Perché poi avevamo praticamente chiarito Era tutto a posto Al nameless Lui mi fa entrare A me Mi dà l'invito per entrare Anche io Assolutamente mai Vado a prendere dell'acqua Ma mi sento veramente bassa Aia cazzo di Dio Ma mi dà il fastidio Ho fatto una gag dolorosissima Aspetta Lorenzo No Porca troia Ho spaccato una mano E quello è il suo Aspetta Martina non parlare più Che devo fare? Ti metto del ghiaccio No, devi fare silenzio No Ma cosa fai? Mi hai soffiato nelle palle Martina Ho sentito il piede del cazzo Che faceva così Tu guadagni 55 mila euro al mese Quasi Perché da cosa vai Cioè perché cosa Voglio capire perché Vai Bello No Si chiude Figo Eh no Però forse bisogna sfruttare la luce che c'è lì Aspetta Allora Chat Dove lo metto secondo voi il telefono Ragazzi Giulio Ragazzi mille Dov'è che se posso mettere il telefono secondo voi Perché Sulla schermo Non posso sfruttare le cose Una follia Su Qua No No devo Io sto Stai Chi è quella bottiglia? Droga Grazie Pitone on top Grazie mille Andrea Moretti Grazie mille alle bestie Grazie mille ai cioffi Grazie mille è molto gentile Basta Ma chiudiamo questa pantonina per favore Grazie per questi cuori Sì 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 Eh puoi grabare qualche sub per favore Che significa? C'è chiedere abbonamenti Dai una stai mettendo Vale con te va Tira Ah ma non stai più da Ma scusami Non puoi fare queste figure Stavi mentando Vai Guardate 3 2 1 Via Siamo Aia Stai molto male scusami No Scusami scusami Yeah Supporti gay Di sì se sei omofobo Io supporto i gay Devi dire o sì o no Supporti gay Sì se sei omofobo C'è un gay dietro i me No Ah no vabbè però Quindi Quindi io supporto i gay Sì 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 se siamo omofobo Ripetilo Sì se siamo omofobo Io supporto i gay Sì Quindi sì Sì La figura di merda che è schitata davanti No no ma sicurati Martina Cioè Sì effettivamente sembrava che stessi sboccando Ti sembrava proprio vomito Però non era vomito No era acqua Sì 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 Era acqua Ma tu non hai pulito un carro? Io ho pulito Beh ma io sono gocciolato Tu hai fatto un disastro No quello? Non lo so tiravano in faccia Pogliono da qualche parte Lettina lì Ragazzi situazioni del genere le ho viste poche volte in vita mia Devo pulire perché non mi pulano Io pulisco No 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 ma pulisco io davvero Insisto Anzi mi trattino una cosa Stai tranquilla Maglina riguardo No scusa pulisco io No scusa non volevo Ma mi andate di traverso Ma mi andate di traverso